Via libera alle presidenze di commissioni e giunte. Nel corso di una lunga mattinata in Sala Morando in Consiglio regionale sono stati eletti i presidenti e vicepresidenti delle sei commissioni permanenti, oltre che delle giunte per il regolamento e le elezioni. I membri delle commissioni erano stati nominati dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia su indicazione dei gruppi consigliari. La prima commissione, bilancio, sarà quindi presieduta da Carlo Riva Vercellotti Forza Italia, mentre i vicepresidenti saranno Sean Sacco, Movimento 5 Stelle e Sara Zambaia, Lega. In seconda commissione, urbanistica, è stato eletto presidente Mauro Fava, Lega e vicepresidenti Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle e Paolo Ruzzo, La Forza Italia. La terza commissione, economia, ha visto l'elezione di Claudio Leone, Lega, con vicepresidenti Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, e Raffaele Gallo, Partito Democratico. La quarta commissione, sanità, sarà presieduta da Alessandro Stecco, della Lega. I vice saranno Andrea Cane, sempre Lega, e Domenico Rossi, Partito Democratico. Per la quinta commissione, ambiente, il presidente sarà Angelo Dago, Lega, con vicepresidenti Alberto Avetta, Partito Democratico, e Matteo Gagliasso, Lega. Infine, la sesta commissione, cultura e turismo, ha visto l'elezione a presidente di Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia. I vicepresidenti saranno Alessandra Biletta, di Forza Italia, e Daniele Valle, del Partito Democratico. Come presidente del Consiglio regionale ho la certezza e la volontà di procedere velocemente sui provvedimenti, cosa che abbiamo necessità, come ha detto Alberto Cirio, di velocizzare i procedimenti legislativi nel Piemonte, e soprattutto dare risposte certe ai piemontesi. La giunta per il regolamento è presieduta da Stefano Allasia, in qualità di presidente del Consiglio regionale. Sono invece stati eletti vicepresidenti Walter Marin, Lega, e Diego Sarno, Partito Democratico. La giunta per le elezioni avrà come presidente Maurizio Marello, Partito Democratico, mentre i vicepresidenti saranno Andrea Cerutti, Lega, e Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle.